Buongiorno a tutti, oggi vi propongo in vendita un immobile sito nel comune di Bressano a Bottarone più precisamente la frazione è frazione Bottarone nella frazione Bottarone l'unica cosa che c'è adesso è la stazione che ti porta verso Milano l'immobile che sto vendendo è un negozio però come tutti sappiamo in questa zona qua i negozi non vanno più da quando hanno costruito la tangenziale quindi uno potrebbe acquistare l'immobile, la cifra è molto molto bassa quindi sono 15.000 euro acquistando l'immobile potrebbe fargli richiedere il cambio di destinazione d'uso quindi da commerciale trasformarlo in residenziale come vedete questa qua è una stanzona grande con il soffitto a volte la palazzina sarà una palazzina dei primi del Novecento qua abbiamo il ripostiglio che beh adesso non abbiamo la luce quindi non riesco a farvelo vedere ed infine abbiamo il bagno il bagno adesso ha soltanto il WC e il lavandino quindi chi lo compra dovrà creare anche la doccia perfetto adesso qua vediamo il WC che è questo ed in fondo c'è un piccolo ripostiglio bene adesso vi voglio proporre altre due soluzioni la prima soluzione si trova a Bressana Bottarone ed è un appartamento completamente ristrutturato di circa 110 metri quadrati oppure ho un altro immobile a Voghera vicino alla stazione la zona è quella di piazza San Buovo grazie